Il Po Stop Revisore Revisore.it Buonasera, sono qua da questa mattina presto, li ho visti tutti ed è stato bellissimo, veramente vi ringrazio perché è stata una ricchezza per me. Vi devo parlare di creatività, sono io, ho girato il mondo con Megan Gale, mi sono divertito un sacco, chiedetemi tutti, ah che fortunato, sono stato molto fortunato, ho fatto gli anni 80 e gli anni 90, ho gestito tutta la migration strategy dal verde al rosso e mi sono divertito un sacco. Allora non me ne rendevo conto perché andavo su e giù dagli aerei e giravo come un pazzo, però ho imparato veramente tanto, ma non ci sono arrivato per caso. Sono figlio di una famiglia di operai, gente semplice, figuratevi che tutto è iniziato per una bocciatura, il professor Colombini ha chiamato il mio papà e gli ha detto, signor Brini scusi che lavoro fa lei? E mio papà, io faccio l'operaio, si era vestito bene per venire al colloquio, io faccio l'operaio, secondo me Mauriglio dovrebbe fare la stessa cosa, dovrebbe lavorare, cioè gli trovi un lavoro perché non è veramente portato per la pubblicità e la grafica. E quello signori è stato il mio calcio nel culo, il calcio nel culo che è stato un passo in avanti, perché così io ho deciso che avrei lavorato, sono andato a lavorare in fabbrica sulle macchine da stampa. Ero sempre un po' vicino alla grafica, alla pubblicità, stampavo le copertine dei dischi, però studiavo la sera. Studiavo la sera e mi sono fatto un bel mazzo. Ringraziando quel calcio nel culo sono entrato in piccole agenzie di comunicazione e poi... Io non ho mai provato un raro! Ma come non hai mai provato un raro? Un raro! Non hai mai provato un raro? No, non ho mai provato un raro. Questo ve lo ricorderete, è stato uno degli spot che mi ha praticamente premiato e fatto diventare molto famoso, ero diventato finalmente un pubblicitario. Pubblicitario era la McEnerison italiana, per cui ero pagato, giravo il mondo, ero molto felice, molto contento. Figuratevi che una volta dovevo partire per girare il mio primo spot in Sudafrica, ma essendo io figlio di operai che arrivavo dal quartiere Gratossoglio di Milano, non avevo il passaporto. Per cui corri giù, prendi il taxi, vai alla questura, fai immediatamente il passaporto e chi ti trova sotto la McEner? Il professor Colombini. Professore, ma cosa fai tu qua, Brini? C'era la scritta McEner, ve la vedete l'inquadratura bellissima, io tutto elegante con la scritta McEner e il taxi. Scusi prof, ma devo andare, devo andare, devo prendere il taxi. È stata una delle più belle soddisfazioni della mia vita. Questo per dire alle persone che sono giovani e che sono in sala che a volte i calci nel culo sono un passo in avanti. È inutile stare a guardare i pantaloni sporchi. Altra lezione importante che voglio far passare alle persone che fanno i cosiddetti creativi, che ormai sono diventati sempre più creativi digitali, ma io sono un nativo cartaceo, lo dicevo prima Germano che mi ha proibbiato tante volte, cioè si lavorava col pennarello, con la carta, con la colla che faceva piangere gli occhi. E il passaggio dal digitale al cartaceo, dal cartaceo al digitale, io l'ho veramente vissuto sulla mia pelle, per cui sono veramente contento di aver potuto vedere questa rivoluzione. Però voglio passarvi questa lezione che per me è stata importante, penso che sia una lezione che non ha passaggi digitali. Avevo appena fatto questo spot. Andando a girare una settimana in Islanda, perché allora c'erano tanti soldi, per cui la modella, la giangelina, bellissima, andiamo a presentare lo spot, che era molto più lungo, adesso che ho fatto solamente una sintesi, e il cliente, non mi piace, se è triste, se è scuro, se è buio, non mi piace, ma signor Stefanel, abbiamo scelto insieme la modella, signor Stefanel abbiamo scelto insieme di andare in Islanda, in questo ambiente così cupo, così scuro, dove lui arriva da dietro e la abbraccia, perché è l'amore addosso. Sì, ma a me non mi piace, cos'è ti disi, ti? Ha la sorella, e la sorella, oh, neanche a me non mi piace tanto, se è brutto, se è scuro, se è morto, qualcosa di vivo. Sì, ma voi non capite perché, e io con la mia presunzione dell'art director super pagato, super premiato, così, no, perché voi non capite. E il mio capo mi chiama e mi dice, possiamo uscire un secondo? Usciamo, e mi ha attaccato letteralmente al muro, cioè mi ha preso per il bavoro e mi ha attaccato al muro, e mi ha detto, porta rispetto per quella persona che sta investendo i soldi in comunicazione. Chissà tu e la tua mogliettina come romperete le scatole a chi vende i divani per la vostra casetta del cavolo. Era vero, al sabato andavamo in giro a vedere i mobili per la vostra casa ed eravamo dei grandi rompiscatole. Adesso rientri, sorridi, umilmente, gli dici che farai il possibile per rimontare lo spot. E così abbiamo fatto. Sono rientrato, ho sorriso, ho rimontato lo spot, ho cambiato le luci, mettendo le luci più chiare possibili, qua già vedete le luci molto chiare, e ho cercato le scene più sorridenti. Morale il cliente ha provato. Questa è stata la più grande lezione che io voglio passare a tutte le persone. Ci vuole umiltà. Umiltà. Non c'è nessun mondo a due velocità che possa cancellare questa dote. La dote è di capire che siamo dei comunicatori, di capire che abbiamo la responsabilità di portare avanti un progetto di un cliente. La parola comunicare nasce da comunis agere, mettere in comune, condividere. Molti creativi sono presuntuosi, non pensano a quello che stanno facendo. Molti creativi non si domandano neanche a chi va un prodotto. Perché? Perché non pensano che i target sono la propria mamma, il proprio papà, i propri fratelli e i propri amici. Bisogna sempre aver presente questa cosa. Essere umili e pensare di parlare alla propria fidanzata. Allora sicuramente si ha rispetto per il prodotto che si prende in considerazione. Ormai il mondo è decisamente cambiato. Io dico fortunatamente. Io ho vissuto l'epoca dove le aziende parlavano bottom up. Adesso le aziende sono costrette a vedere che il linguaggio nasce dal basso. Per cui è una grandissima fortuna. Ma io penso che le regole che vi ho detto non cambino. Ci vuole sempre una grande dose di umiltà, una grande dose di rispetto per il target e soprattutto per il prodotto che si prende in considerazione. Perché dietro un prodotto c'è una storia, un sacrificio e un'azienda. Recentemente ho un imprenditore italiano che fa Amaro e gli ho detto ma scusi, ma sono, non posso dire il nome, sono quattro generazioni che voi fate questa Amaro. Ma state scherzando? Facciamo un libro? No, ma Amoriglio, ma no, facciamo un libro, no, meglio di no, meglio, no, non me la voglio tirare. Ma no, ma è importante, è importante portare fuori le radici di quattro generazioni. Così abbiamo fatto un libro bellissimo sul centenario. Ci hanno impiegato un anno. Un anno, ma perché lui continuava a tirar fuori i materiali. Bisogna avere rispetto. Bisogna avere rispetto e pensare che abbiamo una grande fortuna. Abbiamo il compito di prendere una cosa, di studiarla attentamente, viverla e portarla fuori. Questo è il ruolo di un comunicatore. Io vi lascio con uno dei miei proverbi preferiti che ho fatto mio e vi invito, soprattutto in attivi digitali, a tenere in considerazione fermati un attimo e arriverai prima. È un proverbio orientale. Invece di girarsi immediatamente attraverso il computer a cercare immagini, shutterstock, fare, brigare. Fermatevi un attimo, prendete in considerazione quello che dovete fare, ragionate, cercate di avere più informazioni possibili e poi portatelo fuori. E poi vi lascio con il mio proverbio preferito, è mio. La pubblicità è l'anima del commercio. Ma solo per un commercio che ha l'anima. Grazie. 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 Grazie.